Diario di bordo, data astrale 15 agosto 2022. Angela aveva indetto un sondaggio su Instagram per decidere la prossima lettura. Allora, praticamente è nata così. Stavo leggendo Padre Brown, i racconti per la Challenge Giallo 2022, ma non mi stava piacendo, quindi ho deciso di abbandonarlo e passare ad altro. Però mi serviva un libro con un fonte abbastanza grande per riuscire a leggerlo con la luce del comodino la sera. E quindi la scelta è ricaduta tra Il Manichino di Grey e Morte sotto Spirito di Brigitte Glazer, di cui di questo avrei preparato la ricetta e di questo ci avrei fatto un reading vlog. Sono qui davanti al telefonino, quindi questo lo vedrete dritto, perché è più facile per me accendere il telefonino e registrare per quanto riguarda il reading vlog. E quindi ha vinto Il Manichino di Grey. Ci troviamo in un centro commerciale, la nostra avventura sarà in un centro commerciale. Qui c'è un mix tra horror, fantasy e thriller. Perché entri sono due i personaggi principali, l'ho iniziato ieri sera, ho letto il primo capitolo. I capitoli sono alternati, uno dal punto di vista di lei e uno dal punto di vista di quest'altro ragazzo. Lei è una babysitter che addirittura è stata chiamata dalla babysitter ufficiale di questo figlio. e si vede che quella, diciamo, ufficiale c'aveva un impegno, ha chiamato Roda per guardare questo bambino. E lei che fa, lei è una tossicodipendente, doveva andarsi a prendere una dose al centro commerciale, si porta il bambino dietro e lo molla in libreria. Quando ritorna dopo aver preso la dose, questo bambino è sparito. Questo è il primo capitolo. Anzi, c'è lei che parla con le guardie e ci credo che è un romanzo horror perché già fa la descrizione della guardia, a parte la camicia sporca di macchie, di curry, di ketchup, di qualche cosa da mangiare, la pancia sporgente e un pelo pubblico che spunta dalla sottopancia, già ispido, come una spugnetta abrasiva, che rende benissimo l'idea. Poi dice horror, cioè credo che è horror. Sulla pelle glabra, ecco, che dedico sulla pelle bianca. Quindi già una descrizione horror così della guardia ti fa già sperare in un capolavoro. Su Amazon c'ha cinque stelline di valutazione, quindi il libro promette, insomma, sono abbastanza galvanizzata, dunque da questo capitolo, primo capitolo, si capiscono tante cose. E' ambientato in Sudafrica, laia nera con la faccia sfregiata. Io pensavo che era in America, invece in Africa, in Sudafrica, non lo so. Quindi non so, non dà neanche, lei lo dice che sta in Sudafrica, però non è che dice dove era messo sto centro commerciale. No, no, parte subito che lei è dentro il centro commerciale, ha perso il bambino e sta parlando con le guardie. Si ritroverà nelle viscere del centro commerciale attraverso degli indizi che dice gli arriveranno sul cellulare per cercare questo ragazzino, per scappare da questo centro commerciale. All'interno ci sarà tipo una sorta di mondo parallelo, diciamo così, almeno da quello che ho capito dalla trama. Quindi, continueremo la serie e quindi ci vediamo al prossimo aggiornamento. Ah, e io sono una di quelle persone, ve lo dico subito, che è così, meglio dire subito tutti i difetti, che piega la fascetta e la usa come segnalibro. Allora, sono le tre del 16 agosto, è mattina quindi, siamo tornati verso l'una dal concerto di Neri per casa a Morlupo. Io sono ancora piena di adrenalina e quindi mi sono messa a leggere, anche perché è stata una bella emozione, insomma, mi sa che era il primo concerto loro dal vivo che vedevo e l'ultima volta l'ho incontrati che avevo 15 anni. È stata una bella esperienza, per me, insomma, sono una fanza appassionata, quindi è stata una bella esperienza. Comunque, non stiamo parlando di questo, ma di Il Manichino. Sono a pagina 40 e si comincia un po' a delineare la storia, nel senso che si sono incontrati i due protagonisti e stanno, sono riusciti a rientrare all'interno del centro commerciale che è chiuso per cercare questo ragazzino, che a quanto pare lui l'ha visto che correva dietro al centro commerciale, dietro ai negozi, diciamo. E niente da dire, a parte che lei è una psicopatica violenta al cavolo e lui cerca di difendersi come può. Questo è quello, diciamo, da raccontare. La cosa che mi ha sbloccato un ricordo è stata la combinazione per accedere al centro commerciale. Vi dico solo Space Bowl di Mel Brooks e la combinazione è 1, 2, 3, 4. Ma chi è che metterebbe mai una combinazione di questo genere? È la combinazione della mia maligia. Mi ha sbloccato un ricordo pazzesco di un film che adoro, come tutti i film di Mel Brooks poi, e dietro, e questa è l'unica cosa da dire in queste 40 pagine, diciamo così. Allora, praticamente apprendiamo che in Sudafrica i manichini hanno le squame, hanno i capezzoli appuntiti e questi occhi che ti fissano. Quindi sono dei manichini abbastanza particolari. Dan e Roda, in un modo o nell'altro, stanno continuando ad andare d'accordo, anche se lei è una pazza scatenata che lo sta gonfiando e botte. è un po' in crisi d'astinenza, quindi non so che aspetta a fassena tirata a sto punto. E niente, cercano di arrivare al punto dove Dan ha visto questo ragazzino che è scappato, però non riescono ad aprire la porta. Quindi, tornando indietro di corsa, sbagliano strada e si ritrovano in un altro punto del sotterraneo e del centro commerciale sconosciuto. Però che succede? Gli arrivano due messaggi sul cellulare, anche se non prende, con due indovinelli, due proposte di gioco. Continuano a camminare, scivolano su una sostanza che dice liquida, come tipo il catrame. La sequenza che vedrete dopo, vi leggo questo pezzetto, che secondo me, nella mente di Grey, dovrebbe essere un pezzo horror. Ma, secondo me, non lo so. Se questo è horror, allora, caro King, ci hai capito niente. Allora, Scarface e Dan sono scivolati su qualcosa, un untume, dicono. All'odore è l'aspetto del petrolio, con quel gioco di riflessi iridescenti nella luce soffusa, ma è granuloso, della consistenza della crema quando fa i grumi. Perché è granuloso, giustamente. Poi lo sentiamo, il suono che potrebbe fare un elefante in calore, ma smorzato, liquido, incapsulato nel cemento. Più che un rumore è un eco, ma capiamo che si avvicina. Io non ho capito che rumore è comunque, non riesco a immaginarmelo. Non sto leggendo, sto dicendo a voi. Gesù Cristo. Mi contorco per rialzarmi, ma non riesco a muovermi. Ho il corpo in sovraccarico di paure, di dolore, di sconcerto. La fine di questo tratto di corridoio è buia, ma sento un simbilo familiare. Qualcosa, qualcuno, si sta scagliando attraverso quella porta, dalla porta con il vetro incrinato dal proiettile. Distinto, faccio il conto alla rovescia e aspetto lo schiaffo di carne sanguinolenta, che sarebbe roda, questo è dal punto di vista di Dan. Quattro, tre, due, uno, e veniamo a salire da un caldo fetore di aria putrita, lambiti da un fiato mangiamerda. Mentre lei è in preda ai conati sopra di me, io cerco di tapparmi il naso, avvicinandomi all'untume catramoso, più vicino che posso, senza doverlo respirare. Qui siamo ad alta letteratura, da questo libro. L'elefante morente barrisce di nuovo, più forte stavolta. Sto scivolando lungo il pavimento, Scarface mi tiene per il polso e mi sta trascinando lungo il corridoio. Dietro di me lascio una scia di quella poltiglia nera, poi lo sfregare della mia carcassa sul cemento, mentre lei mi strattona e ci ritroviamo al centro della puzza di merda. Le mie orecchie ronzano. Mi spinge con un piede lungo il morbido, lurido pavimento, sbatte la porta e si accascia accanto a me nell'oscurità ondeggiante. L'elefante urlante barrisce dall'altra parte della porta. Prendo una boccata di aria marrone e viscosa e un qualcosa di violento e di grosso mi si infila nel naso. L'aria è così piena di mosche che si tagliano con il coltello. Il pavimento è ricoperto di verni. Ora capisco cos'è che mi sta provocando questo prurito acido della carne. Sulla carne. Lei salta su gridando, battendosi addosso le mani e inizia a correre senza una meta precisa. Non le importa dove, basta che non ci sia tutto questo. Mi devo alzare, la devo seguire. Ma soprattutto ricordatevi di urlare giù mangi! Perché c'è vedono l'elefante? Ma che cos'è che sto leggendo? Ah, il manichino. Allora, devo fare un aggiornamento perché le cose successe sono tante perché ad ogni pagina c'è un qualcosa che succede e quindi sono costretta a fare un recap veloce. Ammetto che tutto questo trash mi sta piacendo, ma di brutto mi sta piacendo. Sta a pagina 82, però mi fermo un attimo perché adesso stanno per affrontare il mercato che è l'ennesima prova che gli arriva annunciata sul telefonino, un po' come lontano quando ho detto di giù mangi. Comunque, dopo quel pezzo che ho letto c'erano dei manichini a pezzi, quindi tutti fatti a pezzi messi a forma di muro. Salgono su quel muro e poi c'è un messaggio che gli dice che qualcosa gli correrà dietro e comincia questo muro di manichini una volta che stanno dall'altro lato a cadere. Quindi c'è qualcosa che spinge per andarli a prendere. Loro corrono e vanno a finire su una lunga scalinata che va verso il fondo quindi adesso continuano a scendere e arrivano in un posto buio dove però sentono camminare quindi ci sono dei ratti che corrono. Poi c'è un tunnel alla fine di questo tunnel c'è un hangar dove ci sono dei barboni ciechi. Ora, che cosa fa uno di questi barboni ciechi? Come nei migliori film zombie spunta la mano da un mucchio di vestiti e tenta di afferrare la caviglia di Dan. Questa cosa è fantastica mi è piaciuta tantissimo e insomma si trattengono un po' là anche perché trovano una donna che una donna che però non è cieca ma ci vede benissimo che insomma parla un po' con loro comunque contratta con loro informazioni di questo bambino e gli dà una torcia alcatrame che fuma insomma però comunque che fa luce e quando stanno qui questa barbona gli dirà che c'è qualcuno che li inseguirà e gli arriva il messaggio che ci sarà la fuga dal mercato ora loro arrivano ad un certo punto facendosi luce con questa torcia presa contrattando con la barbona su una rampa di scale che va verso l'alto arriva in una porta bianca non è la porta del paradiso ma da dietro si sente un vociare la musica qui dice gli organetti del luna park come nei migliori film horror e qui c'è scritto che è il mercato quindi si sta per concretizzare il messaggio che hanno ricevuto sul cellulare a questa brevemente siamo all'inizio del capitolo 8 è il libro mi sta piacendo tanto ora io non l'ho detto lo specificherò nel titolo che è spoiler ma devo per forza aggiornarvi così per farvi capire la trama perché è veramente assurda diciamo che devo per forza spiegarvela a grandi linee ma non lo so vediamo un po' come continuare se spoilerarvelo tutto o comunque lasciarvi così un po' di di curiosità andando avanti vediamo insomma ecco io adesso ho un altro pochino di tempo prima di andare a dormire vorrei arrivare almeno a pagina 100 stasera vediamo un po' allora è l'una e mezza del 17 agosto e io ho finito le 100 pagine insomma che mi ero sono arrivata a pagina 100 come mi ero prefissata questa coppia ha passato il mercato sempre con questa presenza dietro che corre vi ricordate se avete letto The Maze Runner o comunque se avete visto il film che c'erano questi affari dietro che correvano e cercavano di prenderli ecco mi viene in mente quello ricco di citazioni cinematografiche addirittura c'è un pezzo alla Poseidon che è la nave che stava affondando insomma il film catastrofico della nave che affondava e i passeggeri dovevano riuscire a scappare ecco quindi cita anche quello e passano un pezzo in quel modo e continuano ad arrivare questi messaggi sul cellulare che raga sembrano scritti veramente coi piedi perché delle parole tutte attaccate che non si legge niente che sembrano veramente come dice nel libro scritte dai bulli quindi non so si fa interessante ho finito il capitolo 9 probabilmente il prossimo sarà il capitolo 10 con un non è un colpo diciamo è un cliffhanger e io adesso non so come fare ad andare a dormire senza sapere che cosa succede quando si aprono le porte dell'ascensore stiamo a questi livelli questo sarà praticamente un reading vlog in pigiama perché leggendolo solo la sera io appaio sempre in pigiama mi spiagano i capelli sconvolti insomma mi dispiace io mi leggo la tappa della sera o comunque finché riesco a tenere gli occhi aperti poi accendo il telefonino e vi parlo col cuore in mano praticamente appena finito appena chiuso il libro dunque sono arrivata devo iniziare il capitolo 14 e il capitolo 9 si era chiuso con un cliffhanger particolare insomma che mi aveva messo tanta curiosità quindi io non vedevo l'ora di leggerlo oggi è il 18 quindi ho saltato ieri mi sono riapprociata stasera alla lettura sono le 11 e 10 e che dire interessante la prova del dell'ascensore scusate mi sono molto stanca sono 15 volte che registro questo pezzetto di impressioni a caldo e le parole faticano ad arrivare comunque superano la prova dell'ascensore una prova abbastanza interessante che mi è piaciuta e finalmente approdano al centro commerciale ma qui avranno una mara sorpresa perché si renderanno conto che questo centro commerciale è praticamente un mondo parallelo del centro commerciale vero quindi avranno i nomi dei prodotti cambiati i marchi proprio cambiati cioè dolce e gabbiona ho fatto ridere ci ho fatto anche una storia su instagram che mi ha fatto molto sorridere e quindi insomma capiranno questa cosa si sono separati a questo punto del libro e si sono scambiati i numeri di cellulare diciamo che è un po' io continuo a dire trash è un po' manca la fantascienza da specificare horror fantasy e thriller ma anche fantascienza questo libro perché ti tuffi nell'acqua il cellulare smettere di funzionare e invece questo nokia continua a funzionare vabbè e continua a ricevere messaggi di questo squilibrato che gli comunica queste prove sul cellulare che non ci si capisce niente quando ho detto che era come Jumanji perché hai visto nel primo Jumanji loro mettevano la carta no appariva la scritta sul 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 vetro lì insomma del gioco e qui è uguale perché ti arriva un messaggio sul telefonino ammetto di amare questi libri dove loro devono superare delle prove non loro nel senso dove i protagonisti devono superare delle prove mi affascinano molto dove si parla di videogiochi insomma tutte queste cose un po' particolari quindi questo mi sta piacendo anche per questo per questo motivo qua e non vedo l'ora di andare avanti domani spero di leggere altre 50 pagine io spero di leggere 50 pagine al giorno così nel giro di poco me lo finisco alla fine sono 350 pagine sono già pagina 200 in tre giorni se continuo con questa velocità da crociera diciamo dovrei finirlo anche perché sono molto curiosa e non vedo l'ora di vedere il video finito con tutte le mie impressioni a caldo allora aggiornamento di metà seduta di lettura diciamo così ho letto le altre 50 pagine sono a pagina 200 il manino il 19 giugno quindi il giorno dopo di quando ho registrato la parte di ieri sera e ho letto il pomeriggio invece che leggere via col vento perché avevo bisogno di una lettura che staccasse mi facesse staccare un po' la testa sicuramente continuerò perché non voglio leggere almeno altre 50 insomma sono abbastanza galvanizzata dunque continua questo viaggio all'interno di questo mondo parallelo che è il centro commerciale e seguiamo la stella dei due protagonisti sempre a capitoli alternati ma fanno due percorsi completamente diversi Roda Proda in un cinema dove ci sono riferimenti a Ghostbusters a vari film a vari anche che ne so Cenerentola 2 il divorzio anche attori come John Cusack e Nicolas Cage tratteggiate in maniera un po' particolare diciamo di più denti marti non è un bel vedere diciamo non è un bel immarginarseli così e farà un incontro un po' particolare mentre dall'altro lato Dan sta seguendo un altro percorso verranno a scoprire anche delle finalmente qualcosa su questo centro commerciale così particolare che ognuno di loro che ha chiamato Meticcio giungerà a fare una determinata scelta se non sarà così penso che faranno una finaccia però certo loro stanno ancora giocando quindi continuano arrivati questi messaggi sul cellulare quindi è ancora un po' tutto da vedere mancano ancora 150 pagine alla fine del libro ma vogliamo parlare del Mac Colon che ha il Big Mega 2 il Cheese Squaglio e il Frittolio Stick per non parlare della Tossicola che fa male ai denti da latte e non vi dico poi com'è farcito il panino perché gli ordineranno un Big Mega 2 e è qualcosa di nausea abbondo cioè questo libro è geniale nella sua nel suo essere così trash allora aggiornamento perché mi mancano le ultime 50 pagine e quindi vabbè volevo fare un attimo il punto della situazione alla fine facendo anche due percorsi alternativi si sono riuniti e decidono insieme insomma cercano il modo per uscire da questo centro commerciale nel mondo parallelo ci riescono e tornano alla vita normale ho scoperto che c'è una seconda parte in questo libro quella che sto leggendo attualmente però diciamo questa parte dopo che mi hai fatto la prima tutta bomba così farcita di tante cose che un po' mi ricordava anche il film labyrinth quello degli anni 80 la sto trovando noiosa devo essere sincera è un pochino piatta piatta abituata alla prima parte questa è piatta la mia domanda adesso loro hanno stretto il rapporto no? ma sulla base di che cosa è nato? l'ho trovata un po' fuori luogo questa parte capisco che hanno passato un'avventura insieme quindi posso capire che si sentono legati però l'ho trovata un po' fuori luogo come se fosse troppo no? quello che mi avevi scritto prima no ma questo è troppo e il modo come sono usciti dal centro commerciale cioè io più ci penso più mi sto a uncazzare cioè è possibile che era in quel modo lì che mi esci dal centro commerciale un modo banale cioè dopo tutta sta premessa mi monti tutte queste pagine e poi mi esci in modo banale così dal centro commerciale quindi speriamo che in queste ultime 50 pagine si ribalti un po' la situazione il romanzo riprende un po' la verve della prima parte perché altrimenti io mi potrei infervorare ma parecchio pure cioè questa puzza di sola che sento aleggiare mi sta innervosando parecchio perché non è che ci ho puntato su questo libro sono partita fomentata perché voi capite mi fate tutta la prima parte con tutte queste cose strane e adesso diventa piatto così e non sta succedendo niente io mi sono delineata una sorta di trama speriamo che sia quello che mi sono immaginata io spero che lui ve lo dico pure spero che lui rientri nel centro commerciale e lei lo vada a ricercare io mi sono fatta questa idea perché lui comunque è scontento nella vita normale ok quindi speriamo che più o meno sia così che si ritrovano un po' i personaggi un po' particolari situazioni un po' in particolare chi c'era dietro a tutto questo chi c'era dietro a questo gioco io credo che nelle ultime 50 pagine lo scoprirò ma in questo caso mi sto in nervosi parecchio sto facendo queste storie veramente a caldo perché mi sto in nervosendo quindi io adesso stacco leggo le ultime 50 pagine faccio così poi facciamo tiriamo le somme insomma l'ultimo aggiornamento e vabbè diciamo che mi sono dedicata più a questo romanzo che avvia col vento in questi giorni come poi se avete visto le storie su instagram insomma l'avrete visto perché sono giorni un po' particolari oggi è il 20 agosto è l'anniversario della morte di papà quindi sono giornate un po' un po' particolari quindi ho bisogno di deliberare la testa e sicuramente il manichino è servito a questo è capitato proprio nel momento giusto e e quindi vediamo vediamo lo dico un'altra volta vediamo allora ho finito il manichino ve lo illustro in due parole ma va io non ho parole veramente veramente non ho parole io non riesco non riesco a dire nulla questa situazione è veramente imbarazzante mi smerdi il libro così io vamo in cazzo io vamo in rabbia quando è così diventa una iena è un libro con delle premesse fantastiche me lo me lo fai finire così boh i gemelli vendicativi i gemelli vendicativi ma che cosa mi stai scrivendo per favore che cosa mi stai scrivendo no 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 non ci siamo proprio ncs io so in nervosità al massimo forse dovrei dormirci sopra e fare delle storie un pochino più calme domattina no una cosa di cui non abbiamo parlato è il come è scritto allora le scene del mondo parallelo sono descritte benissimo il pavimento di vermi e l'aria che si taglia con un coltello pieno di mosche un coso che chiese ficcare nel naso è scritto benissimo però come da lontani un pochetto più di là zero proprio ncs pure qui nel senso mi dici che è ambientata in sud africa loro camminano per la strada io non me lo sono riuscita a figurare per niente per me è continuamente ambientata in america cioè non c'è non c'è proprio continuavo a dirmi no è sud africa sud africa ma per me nella mia testa era america den ad esempio non me lo so figurato per niente già con rota sì perché me lo immaginavo come scancanensi con tutte le cicatrici quindi perché era pelata quindi scancanensi daniel niente e io non non riesco a capire perché si è smerdato così nella parte seconda cavolo la prima parte vale proprio la pena di leggerlo è la seconda parte che no proprio no non va bene non va bene non capisco non capisco capito non capisco proprio questo va pure il passato di Roda ad esempio cioè lei sì tossicodipendente perché perché sceglie di fare questa vita poi quando esce al centro commerciale non c'è più bisogno della droga perché non lo spiega ampiamente sì qualcosa dice ma non nel modo giusto ciao 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 per non parlare del bambino cioè io pensavo pure qui che era tipo una macchina del tempo che loro in realtà escono tipo siamo stati che ne so dentro il centro commerciale quattro anni escono sono passati due giorni no manco quello quindi boh io io sono alquanto basita sì decisamente molto 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 basita ancora mi ci ruote parecchio penso che ogni volta che che penserò a questo libro mi ci verrà un fiatto di bile proprio perché me so innervosita penso che erano anni che mi dovevo innervosire così per un libro credo eh credo che era parecchio che mi doveva succedere penso proprio ma vabbè io so sono veramente ancora sconvolta mi ho fatto passare un attimo perché quelle che avete visto prima sono le reazioni proprio a calda appena l'ho finito su Instagram ma adesso qui cerchiamo di fare un riepilogo vi ho beccato un bello spoiler perché a me non mi frega niente no mi sono tenuta fino a mo' un pochetto visto dico non dico perché magari c'è qualcuno che lo vuole leggere no no non si può leggere sto libro no non mi può fare così allora praticamente qual è la cosa che mi ha fatto innervosire che mi stava facendo innervosire è l'uscita dal centro commerciale praticamente loro devono solo dire ehm loro gli chiedono vuoi davvero uscire la direzione gli chiede vuoi davvero uscire e loro dovranno rispondere sinceramente Roda che gli dice sì e gli fanno uscire cioè mi fai tutta la premessa del mondo parallelo tutti i fricchettoni tutti i commessi legati così a Ben gli ebucano il cervello perché aveva scelto di essere un venditore quindi gli ebucano dietro qui dietro l'orecchio presente col col trapano perché non lo so attraverso quello che cosa gli fanno perché non te lo spiega molto bene e poi basta che dici un sì mi tocca pure parla piano che mamma dorme mi dici un sì per far uscire dal centro commerciale e tornare alla vita normale ma no no ma non è proprio possibile questa cosa non è proprio fattibile io questa cosa mi sta in nervosia quando poi ho visto che torna una vita normale e praticamente lei si mette in casa sua e diventa un'altologata del cavolo perché poi fa combutta con la madre di Dan invece Dan comincia a risultare un pochino insofferente alla vita che faceva prima quindi in questa nuova condizione non ci si trova dopo tutto quello che ha passato cioè ma cavolo ma fate qualcosa che cosa decidono di fare tornare dentro il centro commerciale del mondo parallelo benissimo come l'ero immaginato va benissimo quello che non mi ero immaginata ma come finisce che loro quindi fanno i barboni dietro questa parte del centro commerciale in attesa che la direzione gli rimandi un messaggio per rientrare nel gioco cioè no ma poi non si sa chi c'è dietro a questo gioco cioè io questa è una cosa che proprio mi innervosisce più di tutti non sapere chi c'è chi ha chi c'è dietro questo gioco ma non mi puoi lasciare così con questa cosa io lo voglio sapere anche fosse che non so mi sono immaginata che c'era Roda stessa che c'era la madre di lui boh io veramente io veramente guarda guarda veramente non è proprio possibile mi è finito così male che io ci sono rimasta veramente non è proprio possibile era partita sprombattuto e ci pensavo dico sai 5 stelle forse per questo per carità loro dopo questa avventura sono cambiati sicuramente Dan ha acquistato più fiducia in se stessa Roda più che ne so più modo di comportarsi però fanno una cazzata dietro l'altra che sono costretti a rifugiasse cioè la decisione più logica è ritornare nel mondo parallelo no non è che ci ritornano per scoprire chi c'è dietro questo e magari che ne so mettere fine no no mi spiace perché ero partita tutto sprombattuto cioè proprio in questo video si vede quanto me infervoro e poi il decadimento verso la sola più totale ma qui chi ha votato 5 stelle non ha letto un libro ma in vita sua non è possibile proprio boh io mi nervosisco va bene comunque questo è il video su il manichino fatemi sapere se vi è piaciuto perché è sempre un reading vlog fatto a modo mio insomma quindi ecco ciociaro come lo faccio io non lo so fatemi sapere se lo leggerete ho spolerato tutto non c'è manco più gusto però fatemi sapere un po' che cosa ne pensate se vi è piaciuto se vi ho intrattenuto almeno un pochino e io cerco di farmi sbollentare questa rabbia dormendoci sopra sperando che domani sono un pochino più tranquilla per affrontare la sillala per affrontare insomma di parlarne un pochino in maniera fredda e noi ci rivediamo in un prossimo video grazie per averlo visto ed essere arrivati fin qua io vi do un bacione alla prossima ciao